Il pensiero principale è stato quello subito di avvisare ai ristoratori, i pizzaioli e i baristi perché finalmente da oggi possono svolgere un'attività quasi normale, per cui magari ricevendo anche il cliente senza fare questo asporto che poi di fatto non è che ha una rendita importante per il loro fatturato. Dopodiché ho pensato ai ragazzi, adesso stiamo cercando di capire come possiamo muoverci per creare degli impianti sportivi all'aperto in modo tale da renderli utilizzabili dai regiovani. Abbiamo già stanziato dei soldi per creare un'area attrezzata come quelle che si vedono ormai ovunque di fitness all'aperto. Cercheremo un attimo di valorizzare questa cosa perché comunque è importante anche ridare un po' di vita libera all'aperto e di sport che in questi ultimi mesi è stato veramente tanto penalizzato. La nostra disponibilità va anche alle società sportive, a tutti quelli che facevano e svolgevano sport all'interno del nostro territorio, nelle nostre palestre. Anzi, gli invito a contattarci perché comunque abbiamo individuato delle aree. Speriamo che duri questa cosa perché i dati invece in mio possesso dicono che abbiamo sempre avuto quei numeri lì. Quindi non lo so, io mi auguro che da qui almeno fino alla fine dell'anno saremo sempre gialli, anzi per tornare proprio bianchi. Quello che un po' vorrei, non voglio proprio fare una polemica, però io so per certo che ci sono dei comuni anche vicino al mio, a Montelabate, che hanno dei dati superiori a questo indice. E non è stata applicata la stessa misura perché a oggi non c'è un'ordinanza restrittiva nei confronti di nessun comune marchigiano. Ecco, questo, come dicevo l'altra volta, non lo ritengo molto corretto perché se si applica, se si prende una strada bisogna portarla avanti sempre, a prescindere di chi si incontra sulla propria via. Perché comunque nelle scuole, sì, abbiamo avuto delle classi in quarantena ma non abbiamo mai dovuto chiudere dei plessi. Quindi questo sta a significare che il veicolare avviene tramite la zona industriale perché non abbiamo centri commerciali, non abbiamo supermercati, per cui è facile capire da dove arriva. Voglio fare un augurio a tutte le famiglie che ancora sono in quarantena, che ancora stanno combattendo questo virus. C'è chi sta un po' meglio, c'è chi sta un po' peggio. Io comunque gli faccio i miei auguri, sia da parte mia che da parte di tutta l'amministrazione comunale, per una pronta guarigione.